musica 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 benvenuti in un nuovo episodio di di direwolf 21.6.5 non so non va a decidere il nome i direwolf boys boh non so stiamo in compagnia di anna boh di the wild akasha final che dentro un albero gigante e zombie alieno che non so molesta è morto è tornato sul suo pianeta a casa non so perché wild ci segua però penso che farà la casa insieme a white si io si probabilmente non mi volete mi state cacciando ted passate io vado a depredare il villaggio io ne ho solo uno aspetta vieni qua patata perchè sto morendo tommi tutto ti ho dato quello che ti basta per farne come la carina server no no dai perchè vicino a là c'è il villaggio che pare questo è meglio di crafting table sinceramente ok qua che c'è di bello nulla perchè mi stanno uccidendo perchè sono cattivi che si offre si defende me la gombotto non so perché ehi perchè fa mia forse che io ho trovato qua il villaggio vabbè vado a fare piccone così almeno Io non so come funziona questa roba e io prendo tutto Tu DJ Allora devo trovare un posto abbastanza buono dove prendere la roccia Che figata avete fatto già il tavolino Con il tavolino là in poche però è la crafting table Gli mette dentro le cose e non cadono se esci Io non so che cavolo è ste cose Ho fatto una cafta Vieni da noi Cos'hai fatto? Niente l'ho rimesso a posto ho fatto un buco No hai sbagliato Ho fatto un buco Hai sbagliato Miki Hai sbagliato il legno Devi metter quello più scuro Ce l'ho io tranquillo Io prendo la roccia molto divertente questa cosa Anche qua ho sbagliato Ma rimetti la cosa a scuola Io vado a casa con Miki Finalmente prendo la roccia Io sto già scavando Cazzo è Aspetta Cazzo è cattivo Cazzo è cattivo Faccio un attacco in table Ma per quello scuro lo prendi? Eh nella corteccia fuori 15 minuti per aprire Ma io ho già la spada Ma zombie zombie dove dove andrà? Ma serve uno scuro Non lo so Faccio una casetta vicino alla vostra Tanto lì Eh sì c'è uno spazio enorme Ora che c'è una Misticraft qua Come se prende sempre pugni normali Una Misticraft Non lo so è nella Misticraft Non so che cosa sia Puglia 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 tutto Eh con pugni normali Sì prova No per celebra il piccolo Un su di due Piccone piccone tipo Penso ferro Eh Capita Mi chiede se ti faccio vedere un'altra cosa Guardami Ma non so La gente mi legge nel pensiero Guardami 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 Ora sfido le braghe Guarda, guarda questa Io non vedo niente, troppo piccolo È perché Stai usando la finestra Devi mettere la schermo intero Vedo le formiche a schermo intero Eh, appunto Mi sembra negli occhiali Vedete sempre quelle No, ma così puoi vedere anche tu Il mio pene, così Ah sì? Vai l'albero, mamma mia Cosa? Mi sto facendo vedere cose che vedrà Ma che vedrà? Altro che Darkwood È Dai Dai, no, Dai il forno Dai il forno Il nuovo pacchetto Ci voleva qualche lucina? Il nuovo pacchetto Qualcuno ha salvato le lucine, le ho persi Lo chiameremo Siffredipack Siamo morti un po' più di volte Sì, perché mi sto accettando qua dentro Adesso metto il titolo Sì, fredipack in tutto il pacchetto Tadio, metto dentro quale costo? Più roba in mano Sì Dai, dai, dimmi che se quale prende Su di te Vabbè il piccolo di legno? Fatte? Sì, c'è il piccolo di legno Perfetto Eh Vabbè Ai 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 Che noia cosa scavare C'ho anche un libro Della MistiCraft Non so che cos'è Per il bioma No Il bioma di Cristo Il biome Ok, il montagna È buona Colline Buona quella Perché ti prendi Gli smeraldoni Buona Ok Chi è che lo vuole Io lo regalo Ah, no, io no Oh, le cose Il mondiale è MistiCraft Ah, è vero Bisogna farlo cooperativo Il portale Sì, adesso ne vado Posso sinfruire un attimo Della tua città? Sì, lo so Guarda la casa La per fare Oh Wilde, vieni qua Vieni qua Guarda quante belle cose che ho preso Eh, metti qua Metti qua Tanto poi Madonna Che ladro No, prendete la legna Così di fare la casa Con sta legna O meno DJ DJ hai un po' di Roccia Roccio Ma Teddy ma perché non andiamo a prenderci la roccia Così ci facciamo Lo sta già prendendo a DJ Non si deve fare piccoli prezzi No, no, vulcano Mi dai Mi so cagato Mi dai 12 Mi dai 12 di roccia È così che ti arrapo Anzi Se ne hai altre 8 Attento che Inizio a farlo spogliarello dopo Ok Tocca a farlo Non lo faccio Non lo faccio Lo faccio Me ne hai data una Eh, torno subito Un secondo Lo devo fare Lo devo fare Questa cesta di chi è? Aspetta Lo devo fare Aspetta Un po' di Miki Dove cazzare l'oltre? Dove sei andando? Di chi è sta cesta ragazzi? Ma lascia la... Dove le scelte? Sono qua Mi dici Addio zombie È stato meglio Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Fai un altitotticone di legno Dai faccio mille cose Dovemmo trovare Ti costi una... C'è un villaggio di pazzo Tata Tata Vieni qua Guarda là Qua 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 Me lo raccoglio Palle Scavo c'è il carbone E torna indietro Eh non è giusto Oh sono dietro il testo eh Ci vorrebbero delle luci Te di malattia Eh tranquilli Le peccorini Metti la pecora Io entrerò nella serie Dopo Natale Mi sa con i tempi Con le feste Qua i tempi Sto allungando Sì mi fanno accompagnare Che bello Ho fatto una lag Nooo Mega lag Forse c'è il gioco Minchia No Ma toglilo il backup No è lag normale del server Toglilo il backup Sto malendo di cibo Lo fai fa te no? È meglio fare il backup Non si sa mai Ma che toglie il backup Ma sei matto? Eh lo fai te no? Eh si è bloccato tutto ragazzi Eh dovresti farlo ogni Ehi Quanti cazzo di creeper ci sono Ok Ma scusate Una volta non avrei messo Che su minecraft Una volta che ammazzavi una pegora C'avevi un pezzo Dele Dele lana Qua no Eh Ah hai cascato Ah beh si Teddy Eh Cosa col coso bianco? Eh un elemental stone Non ti impressionare Eh Cosa è che ce l'ha Occhio dietro Mickey Mickey Oh mio dio Oh mio dio Mi assomiglia Vieni dentro Inventro Ho paura Ma cos'è? Ma che fiamine è? Che tifo? Chi è che ci mostra il pene? Mi sono chiuso a casa e è tutto nero Eh anch'io non vedo quello che sta facendo Ci serve proprio qualche lucino Eh Adesso Eh si ma ci serve la fornace Che albero lungo Grande Nero Ma metti la fornace Oddio Ce la com'è Ce la com'è Apri Apri Entra Apri 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 Entra Non so perché voglio vedere quell'episodio No Perché mi l'hai ammesso? Oh avete Tu non sei buco Riappri Adiamo Che cosa fa? Riappri Voglio vedere quell'episodio No 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 brutto brutto No dai però son volto io Tu non mi prendi la lana Nooo Ma quanto bea I nostri vicini hanno piccoli problemi Aiuteremo prima o poi Forse se vuoi Apri Chiudi chiudi Usa bene Che fegge lì Questa cosa mi pensa Ok E dopo dici che era troppo facile la mappa Riparliamone Chi è che ha detto che ha la faccia della mappa Wide Bravo Come è che è normale ok Però si moltiplica Per le persone dal server Ma c'è pure quello Fantasma che rompe Fantasma che rompe il cavolo in single player Pensai normale su un server di 8 persone Oh lo uccise Oh cavolo Ok apri ora ammazziamo il ragnetto Ma Che di me lo facciamo al secondo piano? Eh la Dai c'è che c'è l'arma Aspetta aspetta sto uscendo Da me da me Muori ma Ma fate scale interno o esterne? Eh a chiocciola per ora No l'unica roba che non c'era era quello Dentro Casa No esterne o interne a casa Ma che cazzo è la roba? Esterne o interne a casa In che senso? Che giri intorno all'albero e giri dentro l'albero Si Aspetta Che poi non è che lo faremo Nooo Mamma mia Ma secondo me è la miglioramenta all'esterno Volevo dire è lì davanti a te Eh lo vado a fare all'esterno In caso basta togliere Aspetta che c'è uno zombie lì Noi tranquilli io in caverna Loro che fanno la casa Gli altri che muoiono Sono così E' lì davanti No mi uccide bastardo tu Sarà una serie lunga e dolorosa Ecco lì Dai bastardo Lo prevedo anch'io Allora Chi è che vede il futuro? Io prevedo il futuro Io io Buon per voi Io puoi Io prevedo che Yellowstone e Spade morimo tutti Ecco Io toco ferro eh Ci so mai Io toco pene Io toco tette Eeeh 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 E' giusto Mi ha battuto Ma non c'è? Un'automando veloce per fare waypoint Sto cazzo di mappa Eh no Clicca destro su quel punto no? Clicca destro su un punto E dopo ci penso che c'è Cosa? Mamma mia ragazzi Ma noi possiamo fare il giorno per un momento no? No Ma Mickey Mickey Ma in teoria io l'ho letto ho dato Sì Allora fai Eeeh Ask Option Ok Non si vede nemmeno la mappa Ci sei? Mmh video setting e su brightness metti il bright c'è la metti al massimo no ci sono stato prima non ci torno più vedo vedo un nero oh mio dio questa cosa è particolare ci sono degli scheleti pronti alla vaccinazione se pigli qualche pietra non è male una scala così io ho capito ma io qui non c'ho un pezzo di legno si come cazzo fai ma non c'è un pezzo di legno che cos'è grazie grazie roma se la fai quadrata ok io muoio perché io posso io muoio di nuovo perché moro io ho bisogno di cosa non è problema mio non è problema mio non è problema mio io nasce oh no no io ship questa è mia capito si bella bellissima niente ho trovato la nuova maschera ecco questo è quello che fa l'altro cerca di maschere e mi cucinio di casa e qui il contorno dell'albero se no dopo diventa veramente piccolo se li fai quadrati ok ok non è ma che cazzo è successo no da come posso donna io scapperei no perché mi segue il mentalista oh oh no 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 come ragazzi ma non c'è un po' take a wide take a wide, non a me a wide non hai messo il waypoint? no, perchè scompare dopo no no come scompare quando muoi? eh si eh bullissimo papi zombie no io non voglio morire di nuovo vuole il silenzio ahahah ahahah no ti porterò il fiore sulla tomba dimmi dimmi il tuo fiore preferito ahahah ecco uccidi sui zombie, ecco tutta la gamba come non so cosa io non lo vedo manco lo zombie capirai ah eccolo la Michi vuole delle patate velenate dì vabbè mamma mia dentro sta puntata tu ha morto quanto aspetta molto di conti c'è waypoint c'è da 4 minuti ehm ehm sta casano no mamma mia quanto io tu sono morto bravo minchia ok ma che brutto un alieno con il cappello la rana dai la rana so carino so apri quello zombie oh che bello quando quando si scava in 4 io per fare quest'albero l'ho scavato tutto da solo ci ho messo i 6 in 4 in 4 in 3 in 4 in 4 oh 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 ma si in 5 per 2 ok wide vieni fuori no vieni fuori ecco boom muori addio ma le più alte queste perchè sennò non abbiamo spazi vuoi capire no c'è il cappello da lincoln è mio è mio 1 2 3 4 5 e sono morto lo so mi ha fermato davvero poco vieni no il cappello da lincoln è mio no 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 non pregallo ma guardate quanti zombie però guarda se siamo su in playstation no su in playstation ci sono meno zombie e sono anche meno pericolosi allora allora no zombie spider di oh spider ma io dico ok nella chat zombie alieno è ucciso si è trasportato ooooo ecco il morto zombie alieno basta 5 final cristo sempre proprio moriremo sempre di che comincia così una postura per la protetta così blcan ok ok Ma perchè l'Aeronata di vado? Ma perchè? Allora, facciamo anche un po' di finestra Mamma, che capita Oh, non era No, no, no No, no, no Zombie 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 Non urlare, mi piacere Mamma, scrive beh, devo andare all'ottorina a mettermi l'amplifono adesso dopo sei tipo baudo ma il creeper blue è inutile si si, meno male che è inutile, se no esplodeva tutta la casa e ti spaccavo la faccia aspetta che apro che c'è lo scheletro che vuole entrare no, lascio fuori facciamo sempre le scale interne o esterne? c'erano zombie fuori cavi, ce ne son tre eh, lasciali lei, perchè si moltiplicano il creeper blue ah, e non dilla sta cosa dj, non dilla ma quale c'è sta la? il creeper blue ti fa danno solo quando hai la magia si, perchè colpisce il mana ah, va bene non lo sapevo, va bene per fortuna che allora non era il creeper verde nemmeno male ok, si uccidevo no, quello verde se fosse stato quello verde sarebbe stato un po' meno cazzo eh, ti no, dammi retta per come eravamo messi è stato meglio madonna, metterai, metterai dj come eravamo messi mi scrivo al canale solo per vedere che cosa è successo si, esatto eh, va 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 dove lo metto su stasera io sto venendo su no, prima l'altro eh, prima quell'altro prima quell'altro eh, però vedi è stato ok in venti minuti, allora vediamo la chat il zombie è cascato dall'alto è stato ucciso è stato ucciso è stato ucciso è finito, vai è stato ucciso danno zombie no, mi sono mi cazzato ho già capito che dopo mi toccherò mettere la posta di cesta vai, così bravissima ma dopo lo faccio io automaticamente ok ok che carino che cos'è non c'è manco pezzi di legno io ma guarda un cervello demo? no si, vabbè che se ne ho cosa? guarda che sto davanti a te ma che cosa? no, vai via ah, giusto è finito l'episodio per chi volesse sapere no, ok è finito ce l'ho lasciarlo io l'ho sentito io l'ho sentito io l'ho sentito ma se l'ho capito un caccio è finito davvero o no? si, è su un 8 time ah, ok va bene va bene salutiamo saluto ciao anche se è ricardo ciao ciao ragazzi ciao ciao